Abbiamo proprio una bella draft, abbiamo anche gli avversari in realtà, eh E io, se c'è un campione che odio, è proprio il signor Swain Oltre che Leona, perché ultimamente Leona è insopportabile Siccome prende tipo una gent, Belt diventa un champion a 50 Quando prende W E hanno un ottimo engage con Leona Horn E hanno Indra e Swain che prendono tempo infinito Però in interior abbiamo lo scaling di Corky, lo scaling di Jinx Quindi outscaliamo Reset Jinx come win condition Abbiamo un ottimo engage di Malphite Follow up di Alistar Lilia che posso fare delle robe con lo sleep Abbiamo mischiati bene come APA di damage Quindi abbiamo sicuramente delle ottime win condition Entrambe le draft sono valide Let's go Kindred vuole invadere Di base, non so se lo farà sto game Però non siamo forti e dovremmo essere senza priori in realtà Quindi ho un po' paura di Kindred Devo giocare per la nostra top Per la nostra bot devo giocare Il loro topner dovrebbe anche giocare per bot Dei loro jungler, scusate Quindi siccome vieni non aspettatamente breve Potremmo anche pensare di invadere Sembra essere il mio topside il bro Come non si affaccia da queste parti Come non si affaccia da queste parti Come non si affaccia da queste parti Come non si affaccia in una pick Nonostante il mid laner che aveva perso Pro, io siamo riusciti a stompare i miei guard. Alistar deve andare al mio blu, perché Jinx deve resettare, lui da tempo libero per non fare un cazzo, devo andare a coprirmi la jungle top, però con pazienza suppongo Non ci possiamo aspettare troppo dai supporti, non ci possiamo aspettare troppo dai supporti. Niente, la mappa che è stata donata ai miei teammates non viene sfruttata. Alistar non si sposta e non guardano, li attiviamo. Se non li possiamo aiutare, noi li aiutiamo almeno così. Quindi dovrebbe essere da queste parti, penso. Va bene, abbiamo vinto mid fight, che non è male, peccato non aver uscito anche la Kindred. Kindred ha flashato, Kshanna ha messo ignite. Finghiamo. La Kshanna penso non abbia flashato, vero? Abbiamo Jinx, Megahead, Indred credo sia bot side onestamente. Finghiamola. Ho flashato il buon Horn, qui c'è la mia R. La cosa imbarazzante è che mi trovo a rischiare di essere contestato qui a questo obiettivo da Akshan e perdere la jungle bot mentre bisogna gli avversari alla mia jungle bot. Quasi come qualche ha deciso di recollare, Akshan potrebbe venire a ingaggiarmi qua. Quindi probabilmente perdiamo due parti della mappa contemporaneamente. Sono 4 persone bot. No. Guarda il recall timer di questa bot, oh baby, oh baby, oh baby. Loro. Loro Kindred va top side. Sei veramente patetico, cazzo, sei. Tiri malfight senza vita, interessante anche questo devo dire. Sei abbastanza creativa da parte del malfight, non male. Eh, ah, ristarò ci sono malfight, intanto glielo è un addosso. E poi di tenere i sap... Cioè, ah, I guess, I guess non devo flammare. I guess non devo flammare, ragazzi. Suppongo di non dover flammare. Suppongo di non dover flammare, va bene. Sì. 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 Ecco, farebbe soddisfree. Ehm, allo? Sì. Sì 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 sì. Sì sì sì. Allora? Allora? Ehm... Allora? Ma è tutto illegale quello che sta succedendo Cosa fanno gli avversari Lo stiamo facendo per non shitterli immediatamente Il dive di Malphite Cioè Malphite è andato a fare la R su questo auction Ti l'ha preso? L'avversario non ci credo L'ha preso il mio baiting Bro questo game da Va bene va bene Chill Io ho il drago voglio più che questo qua Troppo Malphite ha sprecato l'ultimo Non ce lo possiamo attestare Bad fight non abbiamo l'altro di Malphite Where are we going guys? Where are we going guys? Where are we going guys? Ce la siamo giocata bene Anche io ho tirato una buona R Trumble fight a parte nostra Nice Se non prendo scatolo ora penso se lo rubi i kindre Dover prenderlo onestamente Sempre forte scatolo Ora che c'è il baron up Ok ci sono Ok ci sono Ok ci sono Ok ci sono Non mano Ok leona Fammi pure 10 secondi di crowd control I guess Pensavo fossero qua gli avversari That's bad Allora No Swain Leona R Quindi non possono fare il baron In realtà Basta che non fanno niente Ed è ok Se gli avversari Aspetta che lo voglio scrivere Don't fight No Swain Leo R If they force You go Don't otherwise Please Non serve a niente sta roba Non stiamo facciando il baron Per cui perché stiamo fightando guys? Ok Ok nice GG Abbiamo vinto Soul di nuovo Altro game Altra soul Let's go Allora possiamo fare Qualsiasi cosa Over GG GG Finalmente Ce l'abbiamo fatta guys Pensa un po' che roba Pensa che roba Dai nice Nice Finalmente non vinto ragazzi Stiamo giocando stra bene Finalmente Però vinciamo un game Un po' dei animalini siamo Cariato dalla Jinx Però se questa Jinx non vinceva il game Dopo che Non sparava dopo il live Dopo l'invita a Kindred Guarda Però da veramente farsi due domande Honoriamola comunque Natrus E voglio dire Malphite E l'altro erano due animali comunque Corky anche Il tizio lì L'alister erano altri animali Anzi non due Avevo Jinx dalla mia Sì 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 Era sufficiente Nice Ne approfitto un attino Sono le 4 e mezza Ma Tiamo per ritardo oggi Sì 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 Grazie a tutti.